ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale nicojuve98 siamo qui oggi con il primo episodio di watchdogs allora prendo il tuo per milare per sparare spara maurice raga è la prima missione che faccio vediamo vediamo per il cerchio attenzione amico stiamo neutralizzando maurice si si raga state zitti che sto registrando abbiamo neutralizzato maurice ora cosa dobbiamo fare maurice non mi parla allora esamina il telefono di maurice raga è una figata questo gioco sono solo all'inizio ma già il fatto di acchierare tutto fare questa cosa lo rende fantastico il mio distributore di bevande non so cosa sto facendo sto carando il distributore e stanno cadendo tutte le lattine esci dallo spogliatoio quando sei pronto ok il pallino giallo come si fa così si è morisse che ti prende vecchio stronzo questo qua è un cinese ti lascio un paio di minuti l'ha ucciso della ubisoft questo gioco stessa casa produtrice di assassin screen fa vedere infatti quanto è bene mi prendi per il culo sistemiamo questo casino e basta fare l'artista e va bene tutto ma mi deludi cioè non cogli la bellezza dello scontro fra bande che sto creando odio fare le cose a me portiamolo via no è tardi fine dell'ottavo è ambientato a chicago e non c'è più tempo e noi in particolare siamo questo personaggio eden pierce e dobbiamo a creare praticamente tutto dobbene ok dimmi della telefonata grazie della domanda diciamo che come stile gta però è più bello è un mod esatto è una specie di hacker ma sì invece è vero così arrivano gli agenti e questo questo suo amico cinese non so sia suo amico giordi ho chiamato anche loro dai una bella sparatoria a fine partita ci sta tutta così noi due passiamo in osservati e domani mi ringrazierai allora qui ci sono già gli agenti portano via moris chi sono il tuo autista ha sparato lui io la farò pagare polizia di chicago o qualcuno all'interno identificatevi devo superare la polizia raga non so come se devo ammazzarla o meno so solo che ci sto provando la prima missione a ecco lì c'è 12 pulizioni a vedi stanno andando via ecco l'arma gli hanno sparato qui ce n'è un altro sempre visto qua allora quindi niente devo cercare di non eliminare la partita più importante della stagione per farlo e rovinarci la festa squadra ci sono due cadaveri nei sotterranei del meisterium due di una banda ah lo sto attirando raga attenzione perché l'altro è lì qualcosa non quadra perché si ammazzano fra loro sto andando su raga sto superando la polizia con facilità ok raga abbiamo superato la polizia ora stiamo raggiungendo l'obiettivo premi per attuare il profile ah questo in potere ci serve per vedere tutte le cose che sono hackerabili ah e qui possiamo andare in tutte le telecamere pazzesco ragazzi possiamo andare in tutte le telecamere disponibili e andiamo... andiamo qua cosa possiamo fare ah devo hackerare qua e ora... e ora posso... ah ecco ora abbiamo aperto la porta in poche parole e dobbiamo raggiungere il piano superiore però ci sono di nuovo poliziotti e gente varia premi... ah ok abbiamo preso un componente elettronico per aprire la ruota delle armi ah qui è come GTA uguale L1 ti apre tutte le armi ma adesso... ah esca ho capito raga allora non capisco che problemi abbia... ah ecco fai da te ok abbiamo preso la esca in poche parole e ora... devo fare... ok tieni pronto per hackerare l'esca ah è una specie di telefono che sta suonando e il poliziotto sta andando a vedere raga noi così possiamo andare su senza farci beccare ecco abbiamo raggiunto l'obiettivo ora non so cosa... caspiterina raga guardate quanta polizia usiamo il profile ancora ah dobbiamo raggiungere quel posto quindi qua è pieno di polizia non ci sono altre telecamere disponibili quindi cosa bisogna fare? allora aspettate un attimo ah beh non avete questa... ah intanto è di qua li postiamo anche ok ah questa è una partita di basket non lo so di cosa la polizia isolerà l'interale se non creiamo un diversivo sono bloccato mi servirà un blackout su tutto lo stadio su tutto... ah siamo allo stadio appunto gochikai che vediamo è la partita di basket penso cerchi il punto d'accesso più vicino allora questo però raga da quello che ho capito stiamo cercando di fare un blackout allo stadio infatti trova anche alla guardia con il codice d'accesso quindi andiamo sulla telecamera e andiamo a cercare tutte le guardie allora andiamo alla telecamera qui una guardia dovrebbe avere questo codice d'accesso eccolo qua hacker ha per intende nella rete dello stadio come devo fare? ah devo riandare qua? ah ok ho sbagliato io raga ok hacker lì causa un blackout bisogna fare l1 di nuovo ok abbiamo il blackout lo stiamo causando eh raga qui entra poco ecco infatti si sta spendendo tutto abbiamo combinato un bel casino raga abbiamo fatto un blackout abbiamo tutti gli accessi in hogar che scappa dallo staglio nuovo obiettivo il peccato ha distrutto un paio di archi elettrici forse ci sono dei feriti la gente sta correndo sul prato l'h2 ci coordiniamo con i tecnici del C2A e sappiate pazienza d'accordo? dobbiamo cercare di scappare senza farci vedere raga ti hai premuto r2 per correre 12 metri ok raga siamo dovremmo essere scappati dallo stadio dopo il blackout ok dove sei giordi? eh? sono andato sono allergico agli spirri qua siamo usciti qua dovrebbe essere tutto regolare abbiamo un nuovo obiettivo qua 10 metri lo raggiungiamo dovremmo scappare con un'auto se ho capito bene che ci procura oh non c'è traccia del sospetto non si vede faremo un altro controllo allora qua possiamo fare tutti gli affari esce dall'area di ricerca della polizia siamo ricercati raga pazzesco ci hanno trovati qua ci dovrebbe essere la nostra qua dentro eccola qui la nostra auto ah ok i comandi sono con quelli di GTA veramente è un gioco stupendo da quello che sto vedendo possiamo scappare possiamo andare pure a bloccare i senatori pasticciare le rotte degli altri ma frigate esce dall'area di ricerca no qua no dobbiamo cercare di andare nei veicoli più chiusi possibile ci faremo seminare da lui ok ops aspettate oh mamma mia c'è un posto di blocco qui vado pazzesco ci stiamo complicando la vita in maniera assurda forse si stiamo qui non ci vediamo facciamo un ascensore allora abbiamo una macchina della polizia davanti a noi mi hanno sparato sentito che il rumore ah no mi sono nascosto nell'alto speriamo che la polizia non giri lì dovremmo essere fuggiti speriamo... dai dai dovremmo avercela fatta eh ragazzi una macchina non seguo praticamente più dai ormai ragazzi dovremmo avercela fatta hanno chiesto i poliziotti non si viano oh abbiamo un'altra macchina qui allora almeno che non si appena passa d'angolo raga noi scappiamo subito qualcuno guardi le vie secondarie oh caspita è lì è qui davanti proprio lì qui davanti quindi vedete le luci oh ci hanno trovato vediamo se passa davanti se gira si trova controlleremo la obet della vostra posizione allora gli dà è andato via che qua però sta tornando dai stanno andando via cioè siamo praticamente usciti dall'aria dobbiamo fare un po' di movimento magari questo stronzezzo sta provando a seminarci quindi non ho ucciso un cd per sbagliare non volevo non era niente intenzione ucciderlo non non capisco cosa bisogna fare con l'uscire l'area della polizia allora raga andiamo dritto di qua c'è un costo di blocco caspiterina andiamo per l'autostrada sperando sperando di non raga non so come fa è pieno di posti di blocco un segno elettronico c'è un altro non sa che ci hanno trovato raga lo stronzezzo sta provando a seminarci non so raga come si fa veramente non so raga come si fa veramente non è un'ora più pallida idea ce l'abbiamo praticamente davanti e dietro caspita fuggi ah obiettivo completato non ho capito dovevamo farci vedere la polizia stiamo scappando io con un'ora non ho capito sta fumando la mia auto bene a tutti ragazzi io per il mio canale ci eravamo lasciati quando avevamo avvertito la polizia ora stiamo scappando con la turana in questo grande auto grosso non avevo capito raga come bisognava fare l'obiettivo è fuggire dalla polizia non so come una Lamborghini civile ucciso porca miseria abbiamo la polizia dietro due alto cerchiamo di cambiare rotta così pazzesco raga avete visto anche voi ho fatto un salto improvvisato ci hanno perso spero ah qua c'è il cerchio ah lì ci sono i gradi 15 14 ci siamo civili che ciccioni che devono raga dovremmo avercela fatta raga ok ce l'abbiamo fatta a fuggire dalla polizia l'assassino lui un chilometro e otto qua raga non si può passare non posso cadere indietro qua come faccio adesso perchè abbiamo fatto un salto proprio ah ma di qua scusate raga ma ah non si può mettere qua il segnalino come suggerire ah mappe gp vuoi premere per piazzare a destinazione gps io volevo piazzare una roba gps allora vediamo se si fa così raga scusatemi purtroppo non ho capito bene schema è veramente pazzesca questa missione questo gioco andiamo alla cavolo raga un chilometro e quattro non so che strada sto facendo so già che mi prenderete in giro in questo video perchè sono proprio un hub alle prese con i nuovi giochi quindi 1300 metri allora un chilometro davanti a noi ok allora qui è ambientato chicago veramente una bella città bella ambientazione forse è stato a new york raga forse sarebbe stato molto più divertente ma sappiamo già che uscirà il 2 e spero che esca il prima possibile perchè già l'1 mi sta piacendo il casino e non vedo ora che esca il 2 il mio amico dice che forse non uscirà ma io ho letto delle news ma io ho letto delle news che sarà presentato al prossimo E3 diciamo già che deve uscire a marzo marzo per non esce quindi aspetteremo per l'anno prossimo 500 500 metri e abbiamo raggiunto il nostro nascondiglio vi ricordo di passare nei canali di star mike starare ricky massimo carbone andrea e dia pagella di spolliciare tutti i video di fare tutto ah qua siamo arrivati al nostro al nostro al nostro nascondiglio ah lì lì ci sono le scale non voglio ripararmi no come si fa a correre a r2 praticamente siamo arrivati al nascondiglio qua possiamo hackerare tutto possiamo guardare il loro saldo in banca è una studentessa è una studentessa modelli come avevano chiamato avevano chiamato la polizia raga siamo arrivati in tempo al nascondiglio ah vedete qui è proprio due computer tutto per hackerare per trovare tutto ha proprio una vera base di hacking vede tutto il video le chiamate proprio tutto proprio un vero sistema di hacking è veramente una figata qui sta vedendo dei video ascoltando può fare praticamente tutto quando sai hackerare puoi fare tutto comunque raga questa qui è il primo video della serie vi ricordo che ne faremo molti altri praticamente se riusciamo di quasi ogni missione ok abbiamo completato l'obiettivo in qualche parola raggiungi il tuo nascondiglio le informazioni sulla posizione di morisse erano giuste ok qua abbiamo ottenuto l'accesso alla abbiamo ottenuto l'accesso al sito s ah il nostro amico è badboy17 la backdoor ti permette di avere accesso alla rete sito s sta lavorando su una cosa più grossa su una cosa più grossa pensate raga stanno lavorando su hackerare la città punto abilità ottenuto ah ok ottimo raga se se possiamo hackerare tutto disuassori mobili ah questo qui è molto molto utile strisce separate impianti trasformatori questo ci può stare non ce l'abbiamo già controllo treni ponti assolutamente batteria extra questo può essere utile ah compriamo tutto mentre ci siamo anche controllo dei treni ok raga quindi abbiamo fatto la missione 1 dell'otto 1 quindi raga grazie a tutti per i 70 iscritti ormai siete 70 persone vi ringrazio tutti vi ricordo di spolliciare mettere like a tutti i miei video quelli dei miei amici ci vediamo a 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 Grazie a tutti.